fidgete spinni fidgete Benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su minecraft ma non siamo sulla dollari craft Siamo per vedere un bellissimo command block come potete vedere Alle mie spalle vi invito a lasciare un bel pollice in su anzi un sacco di pollice in su Iscrivervi nel pulsantino rosso che è gratuito una delle cose poco gratuite in modo da non perdervi le serie E oggi signori e signori possiamo vedere visto che va di moda il fidget spinner Andremo a creare il fidget spinner più bello di minecraft in minecraft Per farlo bisogna fare il command block che vi lascerò se volete nei commenti Fatemelo sapere e mo per crearlo bastano tre blocchi di lastra di quarzo e uno di pedana a pressione Un dos 3s è un os e ci da l'uovo del fidget spinner che va molto di moda in questo periodo Che bellino Il nostro bellissimo fidget spinner fa anche rumore sentite Facciamo girare Gira, 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 gira sempre di più Non c'è solo bianco ovviamente Possiamo tipo colorarlo e faccio vedere Abbiamo un po' di colori Basta che noi ce lo buttiamo dentro Diventa verde Teoria No perché non è questo verde È questo qua che ci vuole slime Vedete ora funziona Sbagliato io Che bello Poi ce ne mettiamo un altro Facciamo girare e lo facciamo diventare rosso Possiamo colorarli Possiamo colorarli Una figata assurda Ovviamente funziona con tutti gli altri Dopo un po' dovrebbero finire di girare Facciamo anche uno giallo Tutti gialli Che figata sta roba Va bene Non è questa qua la particolarità Abbiamo anche altra roba da farvi vedere Su sto command block Andiamo in un po' Che è un po' più distante va Ecco andiamo già qua Facciamo Metto un po' di galline La cosa Utile Bella Non lo so come può essere Se noi mettiamo un po' di galline Facciamo un po' di galline Giusto Mi servono un po' di galline Come si dice Eccolo qua Poi Prendi fidget spin Metti fidget spin Lo fai gire E dopo Si può anche lanciare Possiamo fare anche trick Vedete Ci accoppa una gallina Ci accoppa una gallina Cioè fa affrettare galline proprio E' pazzesca sta roba Guardate Il faccio Rifo Perché se no Rifo Però se tipo Viene da vicino Non gli fa niente Possiamo anche muoverlo Basta Premere tutto shift Vedete Possiamo muoverci col fidget E possiamo anche lanciarlo Accopata la gallina Accopata la gallina E questa è una cosa particolare Poi Ora C'è una cosa Un po' più Bella da vedere Ma Che molti Spero che non lo farete mai Non lo farete durante la vita Non lo farete durante la vita Anzi non fatelo Che è molto pericoloso Se noi prendiamo Un lingotto di ferro Un lingotto di ferro E ce lo buttiamo dentro Diventa questo qua Perché molti Ci sono molti video Che usano le lame E tutto Voi non fatelo Perché è veramente Veramente pericoloso Anche questo si può lanciare E fa Un danno A qualunque Vedete Un danno A qualunque cosa Invece L'altro Quello classico Solo lanciare In questo qua Se ti avvicini Fa male Fa male Tu cide l'entità Diciamo Il cavallino Il cavallino Il cavallino Non è buono Il cavallino Vedete La particolarità È questa Non è nulla di che Ma la particolarità È questo Mi raccomando Voi non fatelo Che può davvero Causare gravi danni Alla salute Cioè Il cavallino Può far Veramente male Quindi voi non fatelo Però Quasi sono troppe galline Occupata Z Vedete È divertente Su Minecraft È divertente Accopire galline Facilmente Ora Un'altra cosa L'ultima cosa Da vedere Che vi faccio vedere Direttamente Allora Ok Mettiamo tutti qua Se noi mettiamo Andiamo in un posto isolato Tranquillo Senza zombolo Zombolo Mettiamoci qua Se noi mettiamo Il nostro bellissimo Fidget spinner Lo facciamo girare Faccio vedere Siamo ovviamente In creative Ok In modo A prendere tutti gli oggetti E ci lanciamo Dieci razzi Tre Quattro Cinque Tre Ecco Vedete Se li prende E poi Vi fa Guardate 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 Cosa bella Una figata assurda Ci sta È però Bellissimo Posso farne ancora Posso farne ancora E facciamone ancora No Un Due Tre Quattro Cinque E possiamo farlo Quanto vogliamo Ce ne vanno Dieci Eccoli qua Se li presi Se li presi Doviamo a metterli bene E voilà Che fai fuochi d'artificio Oh che bello Ok Questo qua Era il Command block Dei fidget spinner In minecraft Se vi è piaciuto E se volete un altro video Sui Command block Fatemelo sapere Vi lascerò Se lo volete Il link nei commenti O in descrizione Ci vediamo al prossimo video Lasciate un bel pollicione su Commentate Iscrivete Vi sentite quello fatto Condividetelo ovunque Iscrivetevi a pagina Facebook E Instagram Ciao a tutti